Sabato mattina, 13 dicembre. E allora impara a vivere. Tagliati una bella porzione di torta con le posate d'argento. Impara come fanno le foglie a crescere sugli alberi. Apri gli occhi. Sul raccordo del Green Cities Service e sulle colline di mattoni illuminate di Watertown, la sottile falce di luna nuova sta distesa di schiena, unghia luminosa di Dio, palpebra abbassata di un angelo. Impara come fa la luna a tramontare nel gelo della notte prima di Natale. Apri le narici. Annusa la neve. Lascia che la vita accada. Mai sentita in colpa per essere andata a letto con uno. Per aver perso la verginità ed essere corsa al pronto soccorso tra un fiotto e l'altro di sangue. Per aver fatto la scema con questo e quello. Perché? Perché? Non avevo idee, ma sensazioni. Provando sensazioni ho trovato quello di cui andavo in cerca. Ho trovato l'unico che volevo. E l'ho capito non con la testa, ma nel calore della verità, a spracuta e al sicuro come un topo nel formaggio. Racconto icastico, deflorazione. Com'è? Un benvenuto al dolore, all'esperienza. Telefonata. Vedi di pagare il conto. Passeggiando giù per Atlantic Avenue, notiamo un carro funebre nero che gira intorno al caffè d'angolo ed entra sotto la tettoia di lamiera ondulata del garage nell'edificio di blocchetti di cemento. Tende di velluto come all'opera. E' lucida pelle nera come le scarpe da ballo di lotario. In mezzo ai camion da dieci tonnellate della stazione, questa suave berlina da camera ardente tirata a lucido. Perché? Per andare dove? Camminavamo e i camion rombavano, stiorandoci di lato. Dall'altra parte della strada il carro si è fermato. Ha fatto retromarcia verso la porta aperta del deposito espressi della stazione. Dei tizi in cappotto nero e bombetta hanno fatto scivolare una barra di sequoia sui rulli del deposito. Pesante, pesante. Ci siamo fermati a guardare, le dita congelate nei guanti, i fiati che mandavano segnali di fumo nell'aria grigia, immobile, mortale. Un uomo con il cappello nero manteneva un'espressione fissa di dolore impietrito sulla faccia, come un attore disoccupato che replica all'infinito la parte in cui rompe sulla scena e dice che il prode esercito è stato sgominato, che il piccolo Ejolf ha seguito la moglie sorcio e che di lui resta solo la gruccia a galleggiare sull'acqua che scorre nel suo letto bagnato. Capelli grigi, una faccia lunga piena di venuzze, gli occhi scavati con lo sguardo fisso da tragedia greca e una smorfia di assoluta infelicità sulla bocca, ma statica, congelata. Aiuta un mastro ciliegia con le guance paffute e la faccia che si aprirebbe in mille sorrisi, se il cappotto e la bombetta neri non lo rendessero solenne come il lavoro impone di fronte agli astanti. Noi, gli astanti, abbiamo guardato. La bara di pregiato legno rosso è scivolata in una cassa da imballaggio di legno chiaro su un carrello per valigie e bauli. La cassa aveva sottili maniglie di rame sui lati. Un coperchio quadrato di legno è stato adagiato sopra l'apertura, da cui era passata la bara ed è stato chiuso per bene con dei dadi a farfalla di rame, che sembravano davvero farfalline brillanti. Il tizio con la faccia paffuta ci si è arrampicato sopra e ha laboriosamente scritto a matita alcune istruzioni. Pacco natalizio per qualcuno a ovest, fragile, deteriorabile, maneggiare con cura, alto, conservare in luogo fresco e asciutto. Di chi era il corpo? Di qualcuno che era finito sotto una macchina? Di un marito, un padre, un amante, una troia? Gli ultimi dichensiani. Le ultime caricature del dolore, con le facce che non cambiano mai smorfia. Vendono i loro io, fissi come un bene di consumo di grande valore, alle legioni di familiari. Sussurrano, consolano, partecipano. In un momento come questo, soltanto il meglio. Un'allegra incursione. Aspettavo il postino alla finestra. Dopo la seconda tazza di caffè distingo i bottoni di ottone, il berretto e la pancetta stretta nell'uniforme blu. Distingo la sacca marrone e rigonfia della posta, corrosa e chiazzata dal clima capriccioso di Boston. Mi precipito giù in ascensore. Una sottile lettera di posta aerea dopo una cascata di no dalla Fondazione Saxton, da Harper's, da Encounter, dall'Atlantic e dalla World Publishing Company per il libro. Tre poesie accettate, con una lettera squisita, calda e ammirata, di John Lehman. L'Orley, The Disquiding Muses, The Snake Charmer, le mie liriche romantiche. Ho indovinato i suoi gusti. Che bello, che meraviglia. Quella mossa coraggiosa di infilarmi nella crepa, quell'appiglio. E l'intuizione di capire che dovevo cambiare, smettere di preoccuparmi, sprofondare nella scrittura. Un giorno potrei fare un figlio. La cosa mi rende quasi euforica. Dov'è finita la vecchia paura? Ancora provo una profonda soggezione per il dolore. Vivrò per raccontarlo? Lavoro, lavoro. Telefonata isterica, luccicante di lacrime da mia madre. Ho il cuore indolenzito, annebbiato, congelato. Perché io, la cattivona, dovrei essere felice? Ma lo sono. Ci ha pregati di andare a stare da lei per un po' se volevamo cambiare aria. Vuole averci vicino per quanto possibile. In fondo sa, teme, che possiamo partire da un momento all'altro.